Un saluto a tutti voi amici in ascolto, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle catechesi di Don Fabio Rosini, biblista, sui frutti dello Spirito Santo. Intanto saluto e do il benvenuto a Don Fabio Rosini. Ben trovati. Allora, a te la parola per spiegarci oggi il frutto della bontà. Grazie. La bontà, così come viene definita con la lingua italiana, viene dalla parola greca che troviamo nel testo di San Paolo, agathosune, la parola che ha dietro agathos, che vuol dire bello, buono, e ha un corrispettivo nell'ebraico importantissimo, hesed, che è un corrispettivo che è un lessema fondamentale, che però è molto ampio di significato. Mentre invece nel testo di San Paolo noi abbiamo peraltro la vicinanza dell'agathosune accanto alla crestotes, che è un apparente sinonimo. Allora, l'italiano traduce benevolenza e bontà come due frutti distinti dello Spirito e stanno in realtà nell'ambito entrambi di quella che in ebraico è la hesed. Beh, fin qui di quello che ho detto non si capisce molto. Il punto è che vorrei ricordare, parliamo, stiamo parlando, dei frutti dello Spirito. Vorrei appunto sottolineare che c'è una differenza fra un frutto e un seme. Il frutto è il compimento di un processo che inizia con un seme. Allora, qui noi abbiamo a che fare con frutti, non con semi. Ovvero sia, questi sono punti di arrivo, non sono punti di partenza. Mi sembra importante ricordare questo a proposito dei frutti dello Spirito perché quanto noi stiamo spiegando, e particolarmente in questo caso, nel caso del termine che oggi affrontiamo, sarebbe grave pensare di poter partire nella vita spirituale da questo punto. A questo punto si arriva ed è frutto dell'opera dello Spirito. Questa non è opera umana e basta. Questo è l'incontro dello Spirito con lo Spirito dell'uomo. Lo Spirito Santo, entrando nell'uomo, procura questo tipo di realtà. Non dimentichiamo che il testo che ci fornisce questo elenco di frutti è il testo appunto del quinto capitolo della lettera ai Galati dove c'è una contraposizione fra i frutti della carne, fra le conseguenze, le opere della carne e il frutto dello Spirito. Allora si tratta di stare un pochino alle scatorigini definitive, cioè al luogo dove sfociano tutti i processi o del bene o del male all'interno dell'uomo, a seconda che l'uomo sia redento o che l'uomo non lo sia. Allora, questo è un frutto della redenzione. E la bontà dobbiamo subito spiegarla salvandoci dai malintesi delle mistificazioni talvolta involontarie, talvolta volontarie del linguaggio e della lettura o della rilettura della vita e della spiritualità cristiana data dalla cultura dominante, dalla cultura di oggi. Don Fabio, dopo questa premessa necessaria, hai ricordato giustamente che questo brano dei frutti è contenuto nella lettera ai Galati, nel capitolo 5 in particolare. È anche un po' sgomberato il campo da facili interpretazioni che però sono erronee. Appunto, c'è la bontà che non è frutto dello Spirito Santo ed è la bontà umana. La bontà umana, che definirei buonismo, è una percezione che noi abbiamo di noi stessi. Agiamo verso qualcuno con bontà. Questa cosa resta intrinseca alla gente di questo tipo di attitudine. non ha niente a che vedere questo con il concetto neotestamentario e ladentemente ebraico di bontà. La morale cristiana è ben alta rispetto a questa visione, diciamo così, dell'uomo come individuo che in se stesso spiega i suoi atti che è un po' di antica matrice ellenistica. Allora, vediamo un pochino di che cosa si tratta. Non è il buonismo, non è l'essere buonini, non è l'essere tutti accomodanti e disposti a sorridere anche quando non sarebbe il caso o cose simili. La bontà, agathosune, viene da agathos in greco, che indica la qualità migliore di una realtà, il bello e il buono, in quanto maturazione piena di un oggetto, di una persona. Una persona è buona, bella, diciamo così, in quanto è arrivato a dare il meglio di sé. È il senso di un aspetto migliore, del bene portato alla sua somma, alla sua vetta. Allora, vediamo un pochino di capire. C'è un gusto che riguarda il meglio, ma che è di ambito relazionale. Stiamo parlando di qualcosa che riguarda l'altro. La bontà neotestamentaria non è, ripeto, attitudine intrinseca per cui io difendo il mio modo di essere buono. Non voglio essere cattivo e voglio essere, appunto, riconosciuto nell'ambito della bontà. È, invece, un'attitudine che riguarda l'altro, sposta la sua attenzione sull'altro. Il meglio per l'altro è il gusto di capire qual è la cosa più buona da fare per l'altro, dove l'altro diventa oggetto di questa attenzione. Quindi la bontà frutto dello Spirito Santo è tutt'altra cosa dal buonismo, frutto della volontà umana. La bontà frutto dello Spirito Santo è il meglio per l'altro. Esattamente. E questo significa che la regola non è la mia propria situazione di coerenza, ma l'assoluto è il bene dell'altra persona. Questo vuol dire che usciamo dal campo degli atti oggettivamente buoni o cattivi e entriamo nel campo degli atti soggettivamente buoni per l'altro. Ciò che è utile per l'altro, cioè diventa secondario se io ho fatto la cosa che mi sento, che non mi sento, che mi trovo d'accordo, non mi trovo d'accordo. io sto facendo la cosa che porta l'altro al meglio. Vediamo un pochino di capire esistenzialmente questo tipo di concetto, perché in realtà detta così, in questa forma un po' astratta, si capisce poco. È il gusto che uno prova quando riesce a ottenere un buon risultato per qualcuno. Partiamo da un esempio banale. È il piacere per esempio di non so, cucinare per qualcuno. Partendo da un esempio stupido. Il piacere di vedere l'altro contento di quello che sta mangiando o di fare qualche cosa che dà all'altro gioia. Il piacere di mettere l'altro nelle condizioni in cui è contento, accogliere una persona in casa e metterlo a suo agio e avere il gusto di vedere che l'altro è a suo agio, che l'altro è contento di quello che uno gli sta offrendo. È il piacere di mettere gioia nell'altro. È il gusto per esempio di vedere ridere un bambino. È il piacere di vedere un bambino allegro e magari averlo fatto ridere, magari avergli fatto qualche coccola, avergli dato qualcosa che per il bambino è gioia. C'è l'allegria di trovare, di vedere il proprio coniuge gioire per una sorpresa, per un regalo, per un atto di servizio fatto. È il piacere che si prova nel vedere una persona rallegrarsi, avere il meglio, stare meglio. è quel gusto che si prova a curare un malato quando si vede il malato migliorare. È il piacere che deriva dalla intuizione dell'altro come cosa preziosa, dalla percepire l'altro come luogo, termine dei propri atti e autentico senso della propria espansione di sé. Di fatto la gioia altrui, il bene altrui, il miglioramento dell'altro, la condizione di maggior felicità dell'altro diventa oggetto della bontà. La bontà è tutta proiettata al miglior risultato possibile per l'altro. Quindi il volere il meglio per l'altro implica anche in qualche modo dei limiti all'azione della persona buona nel senso cristiano. Il meglio non è tutto. Senza ombra di dubbio. Infatti è diciamo qui il punto veramente di differenza fra il buonismo imperante oggi nella nostra cultura e anche nella nostra politica con queste dichiarazioni di bontà reiterate dove da una parte come si diceva prima il problema è il mio intrinseco essere buono e dall'altra l'assoluto diventa il gradimento dell'altro cioè renderlo felice ma qui noi dobbiamo invece fare un salto di qualità non è renderlo felice semplicemente in maniera infantile così tesa a semplicemente accontentare l'altro assecondarlo no il meglio per l'altro implica un amore all'altro che si spinge a cercare il vero bene dell'altro c'era chi diceva che sa amare solamente chi sa dare un calcio a uno zoppo se questo zoppo ce n'ha bisogno di fatto è vero che il bene dell'altro non sempre è ciò che l'altro desidera quando sono stato fra le mani di un medico che mi doveva curare fisicamente molto spesso non mi doveva fare cose che io volevo che mi facesse ma erano il mio bene eppure quello è il vero bene perseguito se un padre rispetto a un figlio fa solamente quello che il figlio gli chiede e quello che il figlio assegonda questo è un padre che non vale niente questo padre è un buonista che non corregge e che creerà tanti problemi a questo figlio un padre sano maturo sa deludere il figlio se il figlio ha bisogno di passare per luoghi e di vivere cose che gli sono necessarie non può essere l'assoluto dell'azione il desiderio dell'altro in senso certo noi abbiamo a che fare con questo punto che il meglio è un meglio che prescinde anche l'altro è chiaro qui possiamo sfociare nel paternalismo nel gestire l'altro come pare a noi e qui c'è sempre la libertà da rispettare ma la vera bontà è questo atteggiamento per cui una persona sta facendo il vero bene dell'altro anche prescindere dal parere dell'altro dunque la bontà intesa come frutto dello spirito santo non è né un permissivismo estremo né un paternalismo esasperato ma qual è allora il percorso per arrivare a questa bontà è necessario lo spirito santo innanzitutto perché questo è un frutto dello spirito propriamente il percorso si identifica per un punto di partenza e un punto d'arrivo questo è qualsiasi pellegrinaggio a quo at quem allora il punto ad quem a cui dobbiamo arrivare è l'altro se noi vogliamo capire cos'è la bontà dobbiamo uscire da una un diffuso individualismo che è latente anche in tante interpretazioni spirituali del Vangelo e quant'altro dove la nostra attenzione resta fissata sul nostro processo di crescita sulla nostra maturazione sul nostro essere capaci o non capaci finalmente risolti o non risolti allora partiamo da un punto che è essenziale quando noi vediamo Gesù chiamare le persone nel Vangelo vediamo sempre che Gesù li chiama a lasciare qualcosa c'è sempre una parte da lasciarsi alle spalle se noi vogliamo andare a fondo nel viaggio della bontà noi dovremmo lasciarci alle spalle qualche cosa curiosamente se il punto d'arrivo è cercare il meglio dell'altro e in questo trovare gioia in questo curiosamente realizzarsi anche come persone nella gioia data agli altri la cosa da lasciare dietro le spalle sono proprio problemi ovvero sia noi per noi stessi non siamo proprio niente non risolviamo niente l'uomo è un essere relazionale la bontà è una felicità nell'ambito della relazione fra le persone l'uomo essere relazionale ha il suo compimento nell'uscire da se stesso tantissimi problemi che le persone anche i religiosi anche le persone che vivono molto di fede stanno affrontando sono in realtà problemi da abbandonare molto spesso le persone nella vita spirituale sono incastrate in vicoli ciechi spirituali che non li portano da nessuna parte c'è una legge essenziale della lettura dei testi della lettura dei dati io per capire le cose le devo interrogare se una domanda non trova risposta non è la risposta che non c'è la maggioranza delle volte è la domanda che è sbagliata la bontà è il frutto di una domanda azzeccata giusta fatta su noi stessi dove è la mia felicità come potrò io risolvere i miei propri problemi se le ferite e le incongruenze che un uomo o una donna portano in sé vengono lette per se stessi sono sempre realtà irrisolvibili esiste un'altra chiave per leggere tutte le nostre problematiche le nostre fragilità le nostre incongruenze le nostre irrisoluzioni spesso quando non troviamo risposte non è che le risposte non ci siano ma è che la domanda è posta male qual è allora la chiave per porsi le domande nel modo giusto il problema vero è che devo partire da chi sono io e dice conciva di anno secondo che Cristo arriverà l'uomo all'uomo allora vediamo un pochino chi è Cristo per capire chi è l'uomo se è vero che Cristo è vero Dio ma anche vero uomo cioè rivela l'uomo all'uomo ripetiamo ed è la verità dell'uomo in lui lui è veramente via verità e vita verità per me della mia realtà della mia identità io chi sono è Cristo chi è Cristo viene identificato come una parola in principio era il verbo il verbo era presso Dio il verbo era Dio Cristo è una parola è una cosa detta detta all'altro se io capisco me stesso e cerco di configurarmi secondo quello che io sono non arrivo mai a una soddisfacente chiusura quadratura del cerchio delle mie incongruenze ma se io sono una parola se io sono in quanto dico in quanto mi relaziono ecco posso per esempio avere una storia personale segnata da alcune sofferenze se io cerco di spiegarmi perché queste cose sono successe a me e perché queste cose forse mi lasciano delle inerzie delle ferite delle necessità delle urgenze che mi condizionano ecco io giro continuamente su una spirale inutile che mi porta sempre solo a me stesso e se invece tutto questo che io magari ho patito potesse servire a qualcuno ecco che io trovo la chiave se io cerco di spiegare me stesso per me stesso beh ci sono tante cose che non mi tornano se io mi penso come una parola mi penso come una missione mi penso come funzione di altri se il mio scopo è dare gioia all'altro ecco che le mie sofferenze diventano compassione diventano saggezza per capire quello che l'altro sta vivendo e anche capire come aiutarlo perfino i miei errori diventano strumento per poter servire meglio aiutare meglio l'altro e qui io mi realizzerò come persona vogliamo essere quadrati centrati risolti e non ci rendiamo conto che invece molto spesso proprio le nostre fragilità proprio le nostre risoluzioni ci permettono di fare il salto della compassione dell'amore noi abbiamo da scoprire una nostra realtà noi per noi stessi non siamo proprio niente la bontà proprio studiata a fondo ci spiega come identità anche umana noi dobbiamo pensare a noi stessi come un pezzo di un puzzle se io ti do un pezzo di un puzzle da solo ma non serve proprio a niente non è niente non definisce niente ma se in un grande puzzle mi manca un pezzo ho un senso di buco di vuoto è una cosa frustrante trovo quel pezzo lo metto lì ho il senso di una pienezza io sono pezzo di un puzzle io non mi spiego per quello che io sono in me stesso ma per quelle che sono le occasioni che io vado trovando intorno a me ci sono tante cose che si potrebbero dire su un livello personale e magari tante ferite tante povertà diventano in realtà capacità nell'esperienza di annunciare il Vangelo questo diventa patente diventa esplicito limpido se noi andiamo un pochino a vedere anche tanti santi nella storia che hanno manifestato delle capacità straordinarie erano delle cose che prese per se stesse erano forse anche pericolose forse anche insoddisfacenti probabilmente discutibili ma applicate a quella tal situazione per obbedienza allo Spirito Santo diventavano splendore meraviglia gloria diventavano servizio amore bisogna non continuare a cercare di cambiarsi ma cercare di capire qual è il proprio posto nel puzzle e scoprire che come si è fatti si è molto utili molto molto efficaci se messi nel posto giusto tante volte quando si gira a vuoto nella vita quando la bontà non sgorga perché non sgorga nessun frutto per nessun altro è perché uno sta continuando a fare la domanda sbagliata continua a chiedersi chi sono mentre dovrebbe chiedersi a cosa servo cosa posso fare di buono